Mi fa però veramente piacere che ci sia qui Xavier Salomon a presentare questo libro perché Xavier Salomon è uno dei più brillanti giovani studiosi, in qualche modo italiani, che lavora oggi negli Stati Uniti. Dal 2014 lui è capo curatore, deputy director, mi pare, all'Africa Collection, uno dei musei più famosi del mondo. Prima aveva lavorato a Dalic, al Museo di Dalic vicino a Londra e poi proprio al Metropolitan Museum e questa è anche una delle ragioni per cui ci faceva piacere che fosse lui qui. Si è occupato di tanti temi, soprattutto di arte italiana del 5 e del 600. Un PhD su Pietro Aldo Brandini, grande cardinal nipote di Clemente VIII, con pubblicazioni molto specialistiche sull'orefice Spagna, su documenti legati a Giuliano Finelli, opere che Finelli forse non ha fatto ma che sarebbero state meravigliose, il ritratto di Pietro. E poi i suoi interessi sono passati a Paolo Veronese, innumerevoli articoli, mostre anche molto importanti nel 2014, ma mostre anche già ad Alic su Van Dyck, Van Dyck in Sicilia. E poi dopo l'approdo alla Frick, anche lì diciamo varie mostre, in questo momento c'è stata la mostra Giorgione Bellini, sta per cominciare, tra due settimane, credo insieme i tre filosofi di Giorgione arrivano a New York e quindi quadri per i contarini di Giorgione Bellini, ma anche mostre mi pare fatto su Canova, sulla statua di Washington di Canova, e poi diciamo, come dire brevemente, anche l'intelligenza di ospitare mostre che non so se lì hai curato tu o insieme ad Alvar Gonzalez, come una grande mostra su un artista non così famoso come è Baladier, non così famosa in Italia, quindi immagino anche negli Stati Uniti, però una mostra che ha avuto un enorme successo, grandissimo orefice di età neoclassica. E quindi diciamo queste grandi mostre che hanno segnato la sua attività, una serie di pubblicazioni importanti, articoli, una serie molto importante, Xavier è una presenza importante anche come recensore sul Barlington Magazine, ha scritto direi ormai decine di recensioni sui temi i più vari, diciamo dalla pittura del Rinascimento, da Annibale Carracci fino a Sargent, è intervenuto su questi temi. E poi ho pensato che al museo lui, direi che sei stato tu, forse mi sbaglio, ha aperto anche una serie di collane di libri, questa mi pare che si chiama Dittico, Dittici, dove, un'idea molto bella, ogni volume è dedicato a una singola opera, il Cavaliere Polacco di Rembrandt, i dipinti di Fragonard, Holbein, e però in questo modo mettendo insieme il saggio dello storico dell'arte, in molti casi tuo, con invece persone che non sono storiche dell'arte, cioè con artisti oppure con scrittori. E fra gli scrittori mi pare si va da Edmund De Waal a Hilary Mantel, Alan Hollinghurst, quindi capite il massimo che si possa immaginare. E in questa idea, come dire, più contemporanea, non l'ho visto, ma ho visto che è uscito anche un libro di una cosa che io sapevo lui faceva durante il lockdown, questi famosi cocktail con il curatore, me ne parlavano tutti i primi colleghi americani, che faceva da casa, e credo che tu dia ricette di cocktail, e però parli anche naturalmente di opere d'arte. Da questa serie di cose è uscito un libro, e anche qui vedo è una prefazione griffatissima addirittura di Simon Shama, quindi capite anche non solo lo studio specialistico sull'orefice che lavora per Pietro Aldobandini, ma anche, come dire, portare la storia dell'arte rinascimentale, barocca e moderna, nel mondo contemporaneo e in una città dove c'è tutto come New York. Quindi sono veramente grato a Xavier che oggi ci parlerà di questo libro. Grazie mille, buonasera. Mi sentite in fondo? Allora, grazie alla Fondazione Zeri per l'invito, grazie ad Andrea e a Luca Mattedi per avermi invitato oggi. È un grande onore essere qui a presentare questo libro molto bello e molto interessante, che per me dà origine a una serie di spunti e di idee più vaste su cos'è la catalogazione, sui rapporti del mondo italiano col mondo anglosassone e viceversa, e alcuni punti che vorrei fare oggi parlando appunto di questo libro. Ma vorrei cominciare con, come si direbbe in inglese, con dei disclaimers. Ecco, allora adesso funziona meglio, scusate. Vorrei cominciare, dicevo, con dei disclaimers all'inglese, ovvero due precitazioni. La prima è che ovviamente io non ho mai conosciuto Federico Zeri, quindi è un personaggio, uno storico dell'arte, che mi sento di conoscere bene dal punto di vista accademico, dal punto di vista degli studi, dei libri, degli articoli, che penso per chiunque lavori sull'arte italiana e non solo siano delle opere imprescindibili dal punto di vista degli studi. Gli devo molto, idealmente nella mia crescita, diciamo, accademica, nella mia crescita di studi, e devo dire il libro che mi ha fatto voler diventare storico dell'arte è stato Due dipinti, La filologia è un nome, che ho letto quando era ancora al liceo, e che veramente è stato un libro che per tanti versi mi ha cambiato la vita. Quindi sono doppiamente onorato di essere qui a parlare di Zeri e a parlare del Metropolitan Museum, dove anche, devo dire, sono stato ovviamente curatore per tre anni, ma soltanto per tre anni, e curatore di una sezione che si accavalla in un certo senso con i cataloghi di Zeri, ma non tanto, nel senso che io ero lì nel Dipartimento di European Paintings, come curatore di quello che all'epoca era definito come Sudden Baroque, il Barocco del Sud, che io ho sempre scherzato con Keith Christensen che voleva dire tutto e nulla, nel senso che la teoria era che era una cosa molto Metropolitan Museum, e parlando poi del Metropolitan e delle lettere anche di Zeri, ci sono tante cose che riconosco come molto particolari di quell'istituzione, ogni istituzione museale ha un po' i suoi tic, i suoi modi di fare, ma il meteo era incaricato di tutta la pittura spagnola, da il greco a Goya, la pittura italiana del 600 e 700, ma non il 700 veneziano, perché il 700 veneziano apparteneva a Catherine Bacher, che aveva la casa a Venezia e quindi aveva diritto al 700 veneziano, e la pittura francese ma solo del 600, quindi era un po' un panorama assurdo per certi versi, ma con dei tagli abbastanza netti, e anche il termine Sardin, ovviamente è Sardin se uno vive a Helsinki, ma se uno vive a Johannesburg, non è proprio barocco del sud, ma vabbè. I cataloghi di Zeri, tuttora per chi lavora sul rinascimento italiano, sono ovviamente fondamentali per le collezioni del Metropolitan, per quanto riguarda i quadri barocchi, diciamo, tra virgolette, del 600 e 700, non tanti di quei quadri sono nei cataloghi, i cataloghi di Zeri sono fatti tra i 60 e gli anni 80, ma dobbiamo pensare che il barocco, soprattutto italiano, è acquisito dal Metropolitan molto velocemente, piuttosto, fino anni 80, 90 e primi anni 2000, e tuttora continuano alcuni di questi acquisti, e lì devo dire c'è stata la spinta fondamentale di uno dei personaggi che compaiono nel libro verso la fine come assistant curator, che è Keith Christensen, che poi ovviamente ha passato quasi tutta la sua carriera di base al Metropolitan come curatore e poi capo dipartimento. Quindi, per quanto riguarda i quadri di cui mi occupavo io, i cataloghi di Zeri erano leggermente periferici, diciamo, perché alcuni dei grandi quadri barocchi che erano già in collezione in quegli anni sono ovviamente studiati da lui, ma tanti degli altri quadri erano da studiare in altri modi. Il catalogo, come vedremo, rimane un catalogo fondamentale per quella collezione del Metropolitan, e tra l'altro altre collezioni del Metropolitan di pittura, la pittura fiamminga, olandese, francese, inglese, sono stati tutti poi catalogati molto più tardi, e i cataloghi più recenti, l'ultimo per esempio è quello dei quadri francesi del Settecento, di Catherine Bacher, che ha fatto anche il catalogo inglese, e i cataloghi fiamminghi e olandesi, che invece furono fatti da Walt Littke in varie riprese. Manca del tutto ancora un catalogo dei quadri spagnoli del Met, quando io ero al Met, una delle cose che si discuteva all'epoca era appunto quest'idea di fare un catalogo dei quadri spagnoli. Che cosa vuol dire catalogare, e perché cataloghiamo delle collezioni, e come ci si rapporta l'idea di fare un catalogo? E questo libro, il libro su Federico Zeri e il Met, già ci fa capire tante di queste dinamiche. Io direi che adesso il mondo dei musei si divide in due, diciamo, sezioni per quanto riguarda le catalogazioni. I cataloghi, io li chiamerei quasi finiti, e i cataloghi infiniti. Cioè il catalogo finito è il catalogo a stampa di uno o più autori, fatto in un certo limite di tempo, e pubblicato in un certo momento. Immaginiamo qualcuno che lavora al catalogo adesso, viene pubblicato nel 2024, quel libro rimarrà sempre fermo nel tempo nel 2024. Ovviamente è un libro che nel momento stesso in cui esce, è già superato da altre scoperte che vengono fatte nel frattempo. E questo è uno dei dilemmi, ovviamente, di chiunque cataloghi una collezione. E vediamo che col fatto, di cui parleremo in un attimo, del fatto che Zeri lavori a questi cataloghi, non in 18 mesi come era ipotizzato all'inizio, ma in realtà in vari anni, vuol dire che è un continuo rincorrere alla bibliografia, articoli che escono, cose superate, e anche all'ultimo momento nelle bozze c'è questa tensione di oddio è uscito quest'altro articolo, lo mettiamo, non lo mettiamo, che è una cosa che tutti noi che scriviamo sappiamo bene che anche nel catalogo di una mostra spesso succede questo, si sta nella fase bozzi e esce fuori qualcosa che andrebbe incluso. Quindi questo è il problema, diciamo, del catalogo finito. Il catalogo infinito è una tendenza, diciamo, più nuova dovuta all'esistenza del formato online, diciamo, e il fatto che adesso il Getty e il Metz stesso, il Metropolitan, siano puntati molto più verso quella direzione, ovvero la direzione di continuamente aggiornare schede online e quindi avere sempre le informazioni più, più, diciamo, aggiornate che si possano avere. Questo sotto tanti punti di vista è un buon sistema, però tutti e due i sistemi hanno lati diversi, diciamo, della medaglia. Il catalogo infinito è il problema che diventa poi veramente difficile capire chi ha aggiunto quale informazione, quando, e c'è adesso tutta una serie di progetti, ovviamente soprattutto al Getty, ma anche un po' al Met, di continuare ad aggiornare, quindi all'aggiornamento di questo mese, questa persona ha aggiunto questo, l'altro mese, che a lungo andare, se immaginiamo questa cosa per 50 anni, diventa abbastanza impossibile da gestire, vedere i cambiamenti. E in altri casi, il Metropolitan, per esempio, ha preso una decisione di fare adesso i cataloghi, almeno per quanto riguarda l'arte europea, unicamente online. L'eccezione di quello francese è stato che ne hanno stampate poche copie per delle biblioteche, ma in base è una stampa su ordinazione, a domanda, e il resto è tutto online. Il sistema delle schede lì, spesso e volentieri, lo so bene io, avendo fatto molte di quelle schede quando ero al Met, è che invece quando vengono poi aggiornate, compare il nome della persona che le ha aggiornate e l'ultima data, quindi schede scritte da una persona poi compaiono come riscritte da qualcun altro e più tardi. Quindi il seguire le tracce di chi ha detto cosa e quando diventa un po' complicato. Il libro di cui parliamo oggi è un po' un esempio molto chiaro di questo, di come un catalogo e un'opera di catalogazione può andare avanti per decenni in questo caso, con tutta una serie di problemi pratici, ovviamente non possiamo parlare di tutti questi problemi adesso, ma affrontando il libro, leggendolo, si capisce bene quanto e come siano complicate queste situazioni. Il catalogo del Met, in realtà come vedremo quattro cataloghi, non uno, esce in una serie di date diverse, ma non negli anni Sessanta come si ipotizzava all'inizio, ma in realtà finisce per uscire fra gli anni Settanta, gli anni Ottanta e l'Ottanta-Sea. E volevo cominciare con due citazioni, diciamo. La prima, il modo in cui Zeri parla del catalogo del Met nella sua autobiografia, in confesso che ho sbagliato, del 1995, in cui è interessante vedere come circonda un po' questo progetto in una negatività, che forse un po' era la negatività anche di quegli anni finali di Zeri e della sua visione un po' del mondo in cui aveva lavorato, soprattutto in America, post-Ghetti, post una serie di altri eventi nella sua vita. Zeri scrive che agli inizi degli anni Sessanta, quando ero esente da qualsiasi impegno ufficiale ed ero stato chiamato al Metropolitan Museum di New York per stendere il catalogo dei quadri italiani, mi trovai in mezzo a un balletto di spie, di lotte accanite, di incessanti calunnie. Quando in seguito mi si chiese di compilare il catalogo dei quadri italiani della Walters Art Gallery di Baltimore, nel Maryland, debbo dire che l'esperienza fu del tutto diversa. Quindi questo parallelo fra il catalogo di Baltimore e il catalogo del Met, che come vedremo sono in realtà due cataloghi anche abbastanza diversi, ma con una visione a posteriori molto idealizzata, diciamo, quindi questa idea che il catalogo di Baltimore fosse una passeggiata in un roseto, mentre invece il catalogo del Metropolitan fosse un po' un incubo. In realtà, le differenze fra le due istituzioni sono ben chiare anche da queste lettere in cui si percepisce già come burocratico e complicato possa essere, e tuttora sia, il Metropolitan, mentre invece Baltimore, come museo più piccolo sotto tanti punti di vista e gestito in maniera diversa, rendesse la vita per certe cose più semplici. L'altra lettera molto interessante è la lettera riguardo al volume finale del catalogo del Met che esce nell'86, il volume della Scuola del Nord Italia, e a questo punto è John Pope Hennessy a scrivere a Zeri e noi vediamo nei vent'anni il susseguirsi dei membri dello staff del Met. Cominciamo con Ted Rousseau, finiamo con, appunto, con Keith Christensen e Everett Faye, persone che vanno e tornano dal museo e anche per me, essendo stato in quel dipartimento per un periodo anche relativamente breve, era interessante rivedere, appunto, ricordarsi di come Anthony Clark fosse lì per un breve periodo e poi se ne andasse per una serie di motivi di complicazioni di nuovo interne, come Everett Faye arrivasse, partisse poi per la Free Collection e ritornasse successivamente. Il rapporto Pope Hennessy e Zeri, ma in realtà il rapporto fra tutti gli storici dell'arte che si sono susseguiti al Met e Zeri, sono rapporti, come potete immaginare, complicati, ma non complicati semplicemente perché Zeri era eccentrico e complicato per tanti punti di vista e geniale in altri, ma perché potete immaginare ognuno veniva anche da un suo background molto preciso e potete immaginare come Pope Hennessy e Zeri potessero anche un po' scontrarsi sul catalogo, specialmente il catalogo senese, una zona, diciamo, di ricerca che per Pope Hennessy era molto personale e in cui Zeri entra con delle idee anche diverse da quelle di Pope Hennessy. Pope Hennessy in questa lettera alterna, diciamo, i positivi e i negativi. La leggo in inglese, assumo che tutti capiscano l'inglese senza stare a tradurre. I got back here on Wednesday to find your North Italian catalogue on my desk. It is very gratifying that this series is at least complete and I must at this stage express a heartfelt gratitude to you for your work on it. The four volumes will stand as a work of reference for many years to come. You will, I am afraid, have found the preparation of the catalogue rather a frustrating experience, partly because of its form, which is far inferior to that of your Walters catalogue, and partly because of the interminable delays in its production. It is in fact quite well produced, though the dust cover with a crude reproduction of the Mantegna nativity is of extraordinary ugliness. But the volume, like everything you do, represents a real addition to knowledge for which generations of students will be in your debt. Questo è quello che in inglese si chiamerebbe un compliment sandwich, un panino in cui abbiamo due complimenti con una bella serie di insulti in mezzo, per cui, ovviamente, Pope Hennessy è fiero della conclusione del progetto, finisce dicendo, ed è vero che questo catalogo rappresenta una vera addizione al sapere e generazioni di studenti saranno in debito verso zero. Però nel mezzo parla di le difficoltà del progetto, quanto il catalogo sia inferiore a quello della Walters, che è una cosa che un po' emerge da varie discussioni di questo catalogo e che in realtà non è la realtà, non è vero, sono due cataloghi diversi, ma non necessariamente uno è meglio dell'altro. E questa nota abbastanza sorprendente della bruttezza della copertina, che francamente non so bene perché Pope Hennessy ce l'avesse così tanto con la copertina, che non è così brutta, ma va bene. Il libro, ovviamente ritorniamo ai cataloghi, il libro di Andrea Bacchi e Luca Mattedi è un libro che è composto, diciamo, da tre parti, due saggi dei due autori che riguardano un po' la genesi del catalogo e poi l'effettiva messa in opera del catalogo e un regesto di quasi 750 lettere che quindi non sono riportate completamente tutti i testi, ma in parti danno un'idea di cosa è inclusa in ogni lettera. Potete immaginare tante delle lettere sono appunto su questioni di bozze, di cose pratiche per cui avere i testi per intero non è necessariamente sempre utile. è veramente queste tre parti danno una biografia dell'operazione della catalogazione come forse non ho mai visto, cioè secondo me non c'è mai stato in realtà un libro sul catalogare una collezione e questo diventa particolarmente interessante e spero in un futuro possa magari essere anche l'inizio di altri studi su altre cose del genere, mi aspetto il volume Zeri e Baltimora forse da seguire, però capire come grandi figure nel nostro mondo, nel mondo della storia dell'arte si sono confrontate con collezioni in Italia all'estero in queste opere gigantesche di catalogazione è veramente molto interessante. Il catalogo nasce con l'idea di essere in realtà all'inizio addirittura un aggiornamento del catalogo che già esisteva negli anni 40 dei quadri italiani ma che molto presto diventa come vedete quattro volumi quindi il volume fiorentino il volume veneziano il volume di Siena e l'Italia centrale e il volume del nord Italia e in questo periodo ovviamente di vent'anni con gli acquisti del Metropolitan che continuano e questo ovviamente è un altro problema dei cataloghi diciamo non dei cataloghi finiti che nel momento che il catalogo esce nel momento che ci sono acquisti ulteriori quegli acquisti non sono catalogati quindi questo era un po' il problema che avevo io quando lavoravo al Metropolitan con i cataloghi italiani che post-zero ovviamente non sono mai stati aggiornati. dicevamo circa 750 lettere che coprono un periodo abbastanza ampio di più di un ventennio cioè scusate alla fine quasi 40 anni si comincia dal 6 gennaio del 1948 quando ancora di cataloghi non si parlava assolutamente e si arriva al 5 febbraio del 1988 quindi due anni dopo che esce l'ultimo catalogo. Questi provengono il fondo principale più o meno 500 lettere dall'archivio del Metropolitan del Dipartimento di European Paintings e come ne parlavamo prima con Andrea Bacchi non è un gruppo esaustivo nel senso che un museo come il Metropolitan purtroppo o per fortuna per altri versi ha una serie di fondi archivistici diversi si scherza sempre al Metropolitan che fra departamenti diversi è come stare in musei diversi non è che a volte è più facile avere un prestito da un altro museo che da un dipartimento nel museo i fondi archivistici del Dipartimento di Scultura sono diversi da quelli di pittura e dal fondo centrale del museo quindi queste lettere vengono dal Dipartimento di Pittura per una serie di motivi le lettere al Dipartimento di Scultura o idealmente anche altri dipartimenti di cui non siamo a conoscenza come per esempio la Lehman Collection che è un fondo separato non sappiamo se queste lettere ci siano o cosa ci sia ancora a parte l'archivio del MET che ovviamente è il fondo principale di questo libro bisogna ringraziare ovviamente il nipote di Federico Zeri Eugenio Malgeri Zeri che ha fornito delle trascrizioni di alcune delle lettere e poi due fondi di due storici dell'arte di cui parleremo importantissimi per questo progetto americani Elizabeth Gardner io continuo a dire i cataloghi di Zeri però come dirò fra un attimo bisogna dire veramente i cataloghi Zeri Gardner sono due persone che lavorano a questi cataloghi non solo Zeri siamo alla fondazione se fossimo alla fondazione Gardner direi che siamo i cataloghi Gardner ma Gardner come vedremo ha un amore molto profondo per Venezia e lascia le sue carte le sue carte di studio alla fondazione Cini e quindi queste sono incluse nel libro e finalmente il fondo di Everett Faye che è un importante partecipante in questa operazione per una serie di motivi in un periodo anche abbastanza lungo e quelli sono fondi regalati poi per fortuna donati alla fondazione Zeri e qui dal 2017 Zeri comincia nel dire nella sua autobiografia che lui si è occupato dei cataloghi quando dice lui ero esente da qualsiasi impegno ufficiale e questo è vero negli anni 60 ma non è vero negli anni 40 quando comincia a parlare fine anni 40 quando comincia a scrivere al Metropolitan e dobbiamo pensare al primo Zeri con il Metropolitan come uno Zeri ancora istituzionale per poco ma ancora istituzionale uno Zeri che ancora non ha tagliato i ponti così nettamente o come vuol far pensare con l'università e con i musei italiani con il ministero ma che all'epoca è direttore della Galleria Spada è al lavoro su una serie di cataloghi italiani di collezioni italiane e qui lo vediamo e qui lo vediamo in questa famosa foto anche un po' già provocatrice col martello in mano mentre si china sopra una delle sculture della Galleria Spada il ruolo di Zeri alla Galleria Spada è un ruolo fondamentale cioè che Zeri riordina la Galleria Spada la rimette in sesto dopo la guerra in una maniera che di base non è stata più fatta e è una galleria che ancora in realtà avrebbe bisogno di molto amore e studi al giorno d'oggi i cataloghi italiani da cui diciamo Zeri esce per arrivare poi al catalogo del Metropolitan sono tra i più importanti sono ovviamente i due della Galleria Spada del 54 e della Galleria Rospigliosi Pallavicini del 59 quindi galleria privata e un altro catalogo diciamo tra virgolette privato che è i 30 dipinti della collezione sai bene del 55 che sta esattamente a metà strada fra Spada e Pallavicini la prima lettera di Zeri Almette è una lettera molto ufficiale una lettera molto diciamo cordiale gentile educata in cui non sorprendentemente chiede delle foto e il tema un po' continuo di questo carteggio è il tema delle fotografie che è un tema per la mia generazione forse ancora in parte comprensibile ma per generazioni più giovani del tutto fuori dal tempo l'idea che uno più foto aveva e come storico dell'arte era più capace è un'idea che nel dopoguerra è un'idea di Berenson è un'idea di Longhi è un'idea di Zeri è un'idea di Everett Faye è un'idea di tanti storici di quella generazione perché ovviamente la fortuna di avere le immagini a portata di mano sul proprio telefono su un computer era una cosa impensabile e quindi queste lettere ti fanno capire come sia fondamentale per Zeri avere delle immagini di opere di cui ha sentito parlare che ha incontrato nella bibliografia ma che non sono sempre illustrate e quindi questa prima lettera è una lettera in cui lui chiede fotografie al Metropolitan propone uno scambio di fotografie lui a quel momento sta dirigendo una serie di campagne fotografiche alla Galleria Spada e in altre collezioni italiane e propone quindi uno scambio di immagini nello scrivere però una cosa molto importante che lui già nella primissima lettera fa un commento a un'opera d'arte dice quel baccanale che voi avete nella vostra collezione è in realtà identificabile come un bozzetto di Giacquinto per la villa della regina a Torino quindi già nella sua diciamo carta di introduzione nel suo presentarsi è un giovane storico dell'arte con un ruolo nel ministero e con una richiesta ben precisa di aiuto ma anche qualcuno che già dà diciamo dei consigli al Metropolitan passano quasi dieci anni e nel 57 è il primo viaggio in America di Zeri va tra novembre e dicembre del 57 queste sono foto più tarde di altri viaggi americani ma giusto per darvi un'idea e come si scrive nel libro come viene riportato il sottotitolo di uno dei capitoli Zeri scrive dicendo My first visit to the States has been one of the greatest experiences of my life e qui bisogna aprire anche il capitolo diciamo del rapporto studiosi italiani studiosi all'estero Zeri ovviamente è uno storico dell'arte internazionale ma internazionale con rapporti con la Francia e direi più di tutto col mondo anglosassone soprattutto americano e fino a un certo punto inglese ma molto limitato nei rapporti verso per esempio la Spagna la Germania o altri paesi europei senz'altro un conoscitore dell'arte di tutti questi paesi ma senz'altro uno storico italiano che nel momento in cui taglia i suoi ponti un po' con l'Italia con il mondo pubblico italiano del ministero e dell'università si butta abbastanza a capofitto in un mondo americano col Metropolitan prima a Baltimora e poi per finire con gli anni del Ghetti in cui ha un ruolo fondamentale per la composizione e la creazione della collezione del Ghetti ma che finisce anche poi ovviamente in modo abbastanza tragico con tutto il caso del Kuros falso comprato dal Ghetti Zeri si vantava del fatto di aver fatto più di 200 viaggi transatlantici per cominciare per nave e come vedete da questa foto a destra anche c'erano altri piaceri sulla nave a parte leggere storia dell'arte e lui dice in tema di viaggi si dice scusate nel libro in tema di viaggi l'intera vita di Zeri fu un continuo fare e disfare le valigie e Zeri in una delle lettere parla dei suoi soliti assurdi giri devo dire mi sento abbastanza come si dice immedesimato in questa situazione perché ovviamente essendo uno storico dell'arte tra l'America e l'Italia viaggiando una volta al mese devo dire ho superato i 200 viaggi transatlantici penso di stare a quota più o meno 400 a questo punto ma capisco la stanchezza e l'idea di vivere facendo e disfacendo le valigie però a prescindere da questo il fatto che sia uno storico dell'arte italiano di base a Roma e a quel punto negli anni poi 60 senza alcun ruolo ufficiale ad essere incaricato di fare i cataloghi del Metropolitan non è una cosa così ovvia in un museo a quell'epoca come il Metropolitan in cui non c'erano stranieri tutto lo staff era di base principalmente c'erano alcune eccezioni ma di base era americano da molto da pensare su quanto importanti siano questi rapporti e quanto questi rapporti vadano da una parte e dall'altra pensiamo al fatto che a me non risulta che ci siano cataloghi di collezioni pubbliche italiane fatte da stranieri e in realtà cataloghi americani fatti da stranieri ce ne sono non solo Zeri a Baltimore e al Met ma anche per esempio più recentemente Boscovitz a Washington e anche alcune collezioni private la Lana Collection anche catalogata in gran parte da Boscovitz e da altri storici dell'arte italiani non so quanto questo andrà avanti nel futuro ed è un po' da domandarci noi nella nostra generazione quanto questi rapporti internazionali in un momento in cui viaggiare è più facile essere in contatto è più facile ma in qualche modo stiamo diventando tutti più campanilisti e vedo nella mia esperienza almeno negli ultimi vent'anni nel mondo dei musei questa divisione comincia a farsi più secca cioè il mondo europeo ogni paese comincia a essere più chiuso in un certo senso così come l'America comincia a essere più chiusa verso il mondo esterno e questo secondo me è una cosa pericolosa non buona e che speriamo si riesca anche a cambiare col tempo e che più di questi rapporti di scambi e di idee possano nascere nel futuro il contratto per i cataloghi è firmato il 12 gennaio del 61 e come dicevo l'idea non è un'idea che nasce già dal 48 è un'idea che si sviluppa col tempo ed è un'idea per cominciare di rivedere i cataloghi degli anni 40 che a quel punto sono già un po' diciamo da rivedere ci sono altre acquisizioni altre opere altre informazioni e comunque un catalogo degli anni 40 diciamo è rispetto agli anni 60 già scritto in un periodo storico molto molto diverso l'idea per cominciare è di consegnare in 18 mesi ovviamente 18 mesi per qualsiasi catalogo sarebbe bello farlo in 18 mesi con un team di 200 persone ma non è una cosa particolarmente pratica sono in tutto 409 dipinti che vengono diciamo studiati in questo catalogo e le divisioni dei quattro volumi in realtà vengono solo create sei anni più tardi nel 67 per cominciare l'idea per i primi sei anni è che sia un catalogo singolo di tutte le opere italiane dicevamo i fiorentini il catalogo dei fiorentini esce nel 71 il primo ad uscire quindi a dieci anni dalla firma del contratto seguiti dai veneziani dai sienesi e per finire con il nord Italia nell'86 uno dei dati interessanti che emerge dal libro e che si può vedere in due modi diversi secondo me è il fatto che di più di questi 400 dipinti solo 28 abbiano attribuzioni diverse al giorno d'oggi e questo da una parte è l'incredibile occhio e l'incredibile studio di Zeri dall'altra se vogliamo dirla tutta è magari anche il fatto che non sono state tanto riviste queste cose al Metropolitan nel senso che il catalogo è rimasto lì dagli anni 80 come fonte imprescindibile di notizie sui quadri ma in realtà una rivisitazione totale di tanti quadri non è stata fatta più di tanto con il risultato anche di quadri venduti per esempio il famoso Giacquinto di cui si parla nella lettera del 48 non è già più nelle collezioni del Metropolitan e se pensiamo anche a quanto del Ghetti sia stato comprato da Zeri sul suggerimento di Zeri e quanto poco sia rimasto al Ghetti di quei quadri è abbastanza incredibile per quanto riguarda i cambiamenti dei musei americani Zeri è totalmente contrario in questo devo dire da italiano gli do ragione all'idea del deaccessioning e una delle discussioni che ho avuto spesso con i miei colleghi al Metropolitan quando ero lì era che io ero l'unico curatore del dipartimento contrario al deaccessioning e in realtà tante cose sono state dei deaccessioning per poi rendersi conto di aver fatto degli errori anche abbastanza madornali e cose sono poi venute fuori sul mercato con attribuzioni molto più altisonanti e a volte anche giuste rispetto a quello che si pensava quando il quadro fosse venduto diventa poi difficile con il deaccessioning avere una storia lineare di una collezione pensate per esempio faccio un esempio su tutti il museo Kimbell Art for Worth creato dai coniugi Kimbell di quadri comprati dai Kimbell ne sono rimasti non so forse una decina quindi praticamente tutta la collezione originale di quel museo è stata poi venduta per comprare altre cose per carità migliori più importanti però non c'è più quel senso di collezione identitaria noi siamo abituati la collezione del Cardinal Borghese le collezioni Pallavicini cioè collezioni Doria Panfili collezioni che sono ferme più o meno nel tempo dal 700 dal 600 700 in poi questo in America è ovviamente molto diverso e qui un po' il rapporto fra diciamo italiani e americani si vede uno scontro su questo fra Zeri e fra il museo in generale nelle lettere ricordiamo ovviamente che il catalogo del MET quindi va in parallelo dicevamo con quello della Walters del 62 ma bisogna anche ricordare qui che l'altra persona che ha lavorato ovviamente al catalogo era Elizabeth Gardner Zeri e la Gardner sono sotto tanti punti di vista un match perfetto perché sono interessati a cose molto diverse quindi Zeri attribuzione contesto storico fino a un certo punto cioè Zeri come storico dell'arte è molto interessato al contesto storico intorno alle opere d'arte nel catalogo emerge fino a un certo punto ma ovviamente è un catalogo in cui le notizie devono essere date in maniera anche abbastanza ristretta la Gardner è invece assolutamente ossessionata dalla provenienza dalla storia collezionistica dei dipinti addirittura il sistema che lei mette in atto di come definire i passaggi di proprietà di un quadro che il Met tuttora usa nel dipartimento di pittura è incredibilmente preciso e sofisticato al punto che si va generazione per generazione di una famiglia quindi non si va soltanto by inheritance per 20 generazioni ma bisogna nominare le prime tre generazioni e poi continuare così via tante delle lettere sono su questioni appunto collezionistiche la Gardner scrive a Zeri chiedendo di documenti accesso a documenti in archivi italiani pubblici e privati scopre dei passaggi importanti ed è molto bello anche leggere dell'entusiasmo l'entusiasmo con cui Zeri scrive di nuove attribuzioni o di aver trovato una nuova parte di una predella di una pala d'altare di un dipinto mentre invece la Gardner risponde con grande excitement per aver scoperto che c'era un altro passaggio collezionistico e questa cosa era sul mercato a un certo punto nel 1756 sono cose che possiamo anche ridere o sorvolare su queste cose ma è molto bello leggere di come queste due persone veramente per la loro vita in vent'anni siano entrati nei minimi dettagli di ognuna di queste 409 opere o quante sono una delle lettere più divertenti alla fine devo dire quello che succede anche molto con questo carteggio è che si comincia in maniera molto ufficiale e poi col passare del tempo ovviamente Zeri e Lagarner diventano molto amici lavorano su questo progetto per vent'anni Lagarner va a Mentana e sta da Zeri e lavorano insieme si vedono a Venezia si vedono ovviamente a New York quindi è un rapporto con delle interruzioni ma senz'altro un rapporto non direi quotidiano ma molto molto fitto alla fine viene fuori lo spirito ironico l'umore il humor di Zeri e questa è la famosa lettera del giugno del 70 in cui si parla del fatto che questi cataloghi ancora non escano siamo a 10 anni quasi dalla firma del contratto i 18 mesi sono passati varie volte e Zeri scrive questa lettera meravigliosa in cui dice quindi questa idea il catalogo della Walters che comincia dopo sarà già fuori stampa quando il primo del MET uscirà o gli altri scommettono che non uscirà mai ci mette dentro il dipartimento di Stato ci mette dentro i sonetti elisabetiani ma è puro humor di Zeri che si legge fra le righe che ovviamente c'è molta frizione e molto scontento rispetto alla struttura del MET la burocrazia il continuo passaggio di bozze da un dipartimento all'altro ma alla fine con la Gardner non sembrano esserci mai disaccordi profondi ci sono lamentele senza altro sulle tematiche della pubblicazione del catalogo ma è la Gardner stessa che spesso si lamenta del museo con Zeri di quanto sia difficile quanto sia complicato e questo alla fine è vero forse di ogni grande museo più grande il museo più la burocrazia si fa complicata e più diventa difficile mandare avanti questi progetti non voglio qui entrare nel merito di tutte le attribuzioni tutti i passaggi di collezioni che Zeri e la Gardner mandano avanti diciamo nel loro carteggio ma volevo fare tre esempi tre esempi abbastanza brevi di come da una parte le lettere ci ci fanno entrare nella vita non direi di tutti i giorni ma la vita del museo una vita più interna una vita più privata e per esempio c'è questa lettera del novembre del 61 in cui la Gardner scrive a Zeri sull'acquisto dell'aristotele di Rembrandt uno dei quadri chiave del Met direi fra i quadri più importanti del dipartimento di pittura il quadro dipinto uno dei tre quadri dipinti da Rembrandt per Antonio Ruffo a Messina forse i primi Rembrandt che arrivano in Italia e senz'altro i primi Rembrandt che sono commissionati dall'Italia a Rembrandt e la Gardner scrive dicendo we're all terribly pleased it looks more beautiful all the time abbiamo avuto 82 mila persone nell'edificio domenica pomeriggio tutti lo volevano vedere c'è l'idea di 82 mila persone che sono venute a vedere un Rembrandt spererei sia lo stesso al giorno d'oggi forse è una cosa più degli anni 60 ma e mi ha fatto piacere leggere questo settimana scorsa ero nel dipartimento di restauro del Met e al momento stanno restaurando l'Aristotele sarà esposto dopo il restauro di qualche anno per la prima volta nel mese prossimo ed è devo dire rispetto a questa fotografia un quadro incredibilmente bello ancora più bello dopo il restauro ci sono poi i contributi di Zeri per quanto riguarda attribuzioni scoperte ce ne sono sono abbastanza infiniti in questo carteggio e ovviamente non possiamo parlare di tutti ma vorrei parlare di due casi abbastanza interessanti il primo caso è quello di Spinello Aretino del famoso gonfalone della Maddalena della confraternita della Maddalena fatto dipinto per Borgo Sansepolcro che il Met acquista nel 1913 ed è uno standardo processionale su due lati adesso qui vedete solo uno dei due lati chiamiamolo il retro anche se poi forse non è necessariamente il retro ma quando il Met lo acquista è un quadro con un lato soltanto cioè il quadro è stato rintelato è una tela unica dipinta su tutti e due lati come tanti standardi questa parte con la flagellazione era rintelata quindi il Met lo compra come un'immagine della Maddalena con un restauro successivo si scopre che in realtà sotto la rifoderatura c'è la flagellazione ma la flagellazione potete vedere come intorno alla testa e al torso di Cristo c'è un po' come uno stacco in realtà quella parte mancava e si ipotizzava giustamente che era stata rimossa a un certo punto quando Zeri comincia il catalogo insieme alla Garner questa parte manca non si sa che fine abbia fatto e questa è la lettera del 5 maggio del 56 in cui e qua siamo ricordiamoci lo siamo pre-catalogo ancora quindi questa è una scoperta di Zeri interessato alle collezioni del Met ma non ancora incaricato del catalogo scopre per caso il frammento al Camposanto al cimitero teotonico al Vaticano a Roma dove tuttora l'opera è e si rende conto immediatamente che questo è la parte mancante dello standardo di Sansepolcro quindi anche qui una lettera molto bella e poi una serie di lettere a seguire su questa scoperta dello spinello aretino che poi Zeri pubblicherà e la reazione del Met immediatamente è molto interessante ovviamente una reazione molto americana da museo americano è possiamo comprarlo cominciamo a parlare col cimitero teotonico e facciamocelo mandare a New York ovviamente il Camposanto teotonico il quadro non lo vende del quadro è ancora a Roma o in Vaticano piuttosto e il Met procede poi con questa operazione un po' da discutere sotto tanti punti di vista di creare un facsimile che poi viene messo sopra la tele quindi quello che voi vedete al Met oggi come in questa fotografia è l'originale di Spinallaretino con poi una copia diciamo effettivamente una foto del quadro al Camposanto teotonico attaccata sopra con poi tutta una serie di discussioni sulla tecnica di questa cosa perché Zeri si domanda giustamente come può essere staccata la pellicola pittorica da una tela doppia quindi all'inizio si dice alla Gardner ma siamo sicuri che non sono due tele attaccate una all'altro e in realtà è una tela singola si tratta probabilmente di un'operazione di strappo come per un affresco fatta in realtà su un quadro perché e quando da un po' da capire cioè sappiamo che è successo nell'Ottocento perché Cavalcaselle disegna il quadro con ancora il Cristo completo come quando questa operazione viene effettuata e la tecnica esatta è ancora un po' diciamo da discutere e per esempio rivedevo recentemente la scheda del Metropolitan Online ed è anche interessante che lì non si parla assolutamente di questa parte del fatto che la parte mancante è a Roma l'altro punto importante veramente il cavallo di battaglia di Zeri a questo punto negli anni 50 si comincia negli anni 50 e poi finisce ovviamente nel 61 quando sta firmando il contratto per il Met ma esce due dipinti la filologia un nome è il famoso maestro delle tavole Barberini e qui vi faccio vedere la tavola Barberini una delle due tavole Barberini divise ora fra il Metropolitan e Boston non apriamo la parentesi dell'esodo delle opere Barberini che in realtà sarebbe bello se fossero ancora in Italia e fosse una collezione completa come dovrebbe essere ma viene smembrata come ben sapete inizio del XX secolo e tante di queste opere finiranno in giro per il mondo soprattutto in America e le due cosiddette tavole Barberini vengono separate fra Matt e Boston Zeri è particolarmente interessato a quest'opera in particolare a queste due tavole e tutto il gruppo creato intorno a queste due opere con tutta una serie di rapporti interessantissimi fra Toscana Centro Italia Urbino altre parti dell'Italia e Zeri ovviamente in due dipinti la filologia e un nome arriva alla conclusione che il pittore di queste opere è Giovannangelo D'Antonio da Camerino un libro affascinante meraviglioso ma se vogliamo dargli due due critiche una è quella alla fine importante che il risultato non è poi giusto perché sappiamo adesso abbastanza per certo che alla fine il maestro ai tavole Barberini non è Giovannangelo da Camerino ma è Fra Carnevale e l'impressione che si ha leggendo il libro soprattutto noi storici dell'arte che mentre lui lo presenta come un viaggio diciamo una serie di indizi messi per poi scoprire il gran finale su chi è l'autore in realtà si capisce bene dall'inizio che lui ha già capito chi è l'autore in un modo sta cercando di giustificare la sua presa di posizione la sua decisione tramite una serie di tra virgolette indizi nonostante questo come dicevo un libro incredibilmente bello affascinante tuttora secondo me uno dei grandi libri di storia dell'arte pubblicato in Italia insieme a Pittura e Controriforma senz'altro uno dei due capolavori direi di Zeri si passa avanti di qualche anno arriviamo nel 77 questo è l'inizio di una lettera invece di Keith Christensen che all'epoca assistant curator del MET scrive in maniera anche molto carina e gentile a Zeri dicendo ma che facciamo di questa cosa perché le prove alla fine che forse sia Fra Carnevale sono abbastanza importanti cioè comunque i quadri sono descritti come Fra Carnevale in tutti gli inventari dice del 1644 71 72 dei Barberini e sono state fatte varie scoperte che ci portano in quella direzione le risposte le risposte di Zeri sono abbastanza evasive su questo cioè Zeri non dice mai avete ragione è Fra Carnevale dice però sì alla fine secondo me è ancora Giovanni Angelo da Camerino quindi è un po' questa difficoltà anche di rapportarsi con i cambiamenti di cose così importanti alla fine avendo fatto un intero libro con un'idea e avendo diciamo sbagliato il risultato finale posso capire che si trovava in un certo imbarazzo soprattutto nel momento in cui questo giovane americano dal Metropolitan scrive con questa domanda abbastanza immagino difficile da fare per un assistente ad un personaggio come Zeri all'epoca quindi qua siamo negli anni 70 ovviamente tutto il diciamo progetto di Fra Carnevale il lavoro su Fra Carnevale si sviluppa in altre direzioni ovviamente nel 2005 ci sono state le grandi mostre a Brera a Urbino e al Metropolitan su Fra Carnevale con tutta una serie di importanti aggiunte a quello che si sapeva di Fra Carnevale del cosiddetto maestro delle tavole Barberini le lettere però Fra Gardner e Zeri sono anche belle perché includono parti anche personali ed è bello leggere come queste due persone si scrivano non solo di cose di storia dell'arte ma anche di cose quotidiane è molto divertente per esempio una lettera del maggio del 61 in cui la Gardner scrive a Zeri di aver visto al cinema a New York la dolce vita quindi immaginiamo un po' adesso tutti gli americani quando vanno a vedere la grande bellezza è un po' quella l'idea del film italiano che è uscito e che rappresenta in un certo modo l'Italia dell'epoca e la Gardner scrive di questo ma la Gardner non è un'americana di base a New York fissa lì è in realtà un'americana con un grande amore verso l'Italia e soprattutto verso Venezia e di nuovo io non ho mai conosciuto Elizabeth Gardner però devo dire di essere entrato in contatto con lei in maniera abbastanza indiretta perché la Gardner nel carteggio con Zeri parla molto di questa casa Venezia che ha comprato e dove vuole andare a vivere dove in realtà finisce per vivere il resto della sua vita dopo aver lasciato il Metropolitan una casa bellissima alla Giudecca che poi lei lascia incredibilmente a due assistant curators del MET lei non aveva figli quindi li lascia a due eredi diciamo storici storici dell'arte una delle due Catherine Bacher che è stata al MET fino a tempi molto recenti e io sono stato ospite da Catherine Bacher nella casa di Elizabeth Gardner varie volte anche con James Draper che era il curatore di scultura e quindi c'era un po' anche quando io ero al MET c'era ancora questo alone della casa della Gardner a Venezia ed è quindi molto bello soprattutto per me avendo conosciuto la casa che nel frattempo è stata venduta e non ha più nulla a che vedere con nessuno al MET o per quanto ne sappia nessuno nel mondo della storia dell'arte è bello leggere di come lei continuamente scriva di questa casa e l'idea della casa come anche rifugio per uno storico in cui si tengano le proprie carte le proprie fototeche i propri materiali i propri libri Zeri nello stesso tempo sta ovviamente in anni un po' precedenti sta costruendo anche la casa di Mentana quindi tutta la questione di sto costruendo questa casa sto costruendo una biblioteca mi sono trasferito finalmente a Mentana e tutto quello che va diciamo nella vita più personale di questi due storici dell'arte per finire passo ad una serie di aggiunte questo è giusto una curiosità che è un po' esula dal libro e dal carteggio Zeri Frick perché nel leggere tutto questo materiale queste lettere questi saggi mi è venuto ovviamente la curiosità essendo alla Frick di vedere il carteggio Frazeri e la Frick che non è un carteggio grazie a Dio di 750 lettere o purtroppo non è di 750 lettere ma sono piuttosto una sessantina di lettere che vanno in un periodo abbastanza parallelo quindi parliamo dal 30 agosto del 73 la prima lettera al 4 maggio dell'81 e sono lettere a tre persone alla Frick che in un certo senso si accavallano con quelle con quelle del MET le prime sono un paio di lettere al bibliotecario della Frick e di nuovo sono lettere in cui si chiedono fotografie si chiedono informazioni su libri o materiale della biblioteca e poi ci sono una serie di lettere per un periodo più o meno di 8 anni alla figlia di Frick a Helen Clay Frick che non dobbiamo dimenticare era la fondatrice della biblioteca e fototeca della Frick che tuttora è una delle grandi fototeche del mondo americano che continua a crescere su cui si continua a lavorare la Helen Clay che non si sposa mai che sogna di fare un dottorato in storia dell'arte che viaggia ogni anno in Italia accompagnata dall'autista nella Rolls Royce e gira per tutti i paesi dell'Abruzzo della Toscana del Lazio insieme a Mason Perkins e tutta una serie di altri storici dell'arte ma che anche conosce Zeri Zeri la va a trovare senz'altro a New York e forse anche a Pittsburgh nel 65 e due delle lettere che vi faccio vedere sono anche interessanti perché si parla di questo anche nel carteggio con la Garner e col Mett passiamo al 66 quindi le alluvioni di Firenze e di Venezia ed è molto bello leggere come Zeri descrive l'alluvione di Firenze prima al bibliotecario e poi alla Miss Frick scrive al bibliotecario the disaster in Florence is beyond imagination however I'm more anxious for the books and manuscripts than for the paintings many of which came out from the water and mud absolutely untouched quanto i quadri siano usciti dal fango e dall'acqua totalmente intoccati non ci credo molto però così dice ovviamente a un bibliotecario the only real loss is Cimabue's crucifix apart from the preposterous devastation of the archaeological museum and the museum of the sciences frescos did suffer Ghirlandaio Domenico Veneziano Castagno eccetera eccetera but not too seriously old pieces of furniture in churches are in a state that I would not dare to describe but books make me crazy quindi al bibliotecario ovviamente scrive dei libri alla signorina Frick alla Miss Frick scrive the shock I received from my visit to Florence e qua siamo nel gennaio del 67 quindi a qualche mese dall'alluvione after the disaster was such that I feel myself in a sort of deep mourning un lutto profondo the town is degraded beyond imagination and the losses of books and documents are indeed terrible quindi ancora si parla di libri e documenti fortunately not too many important paintings that suffer as it is generally believed and apart from the large Cimabue che vedete qui nella foto very few first rate panels are spoiled or devastated canvases that not feel at all the water and the mud di nuovo non so quanto questo sia vero and illuminated manuscripts that were soaked are comparatively very few but the ruin of the town in its life and in its culture is something that will take years and years to be repaired quindi il grande amore di Zeri verso ovviamente la cultura l'arte italiana verso Firenze in queste lettere molto commoventi alla fine in cui si descrive velocemente lo stato di totale distruzione di Firenze in quei mesi e per finire entra in scena e con questo volevo anche finire un altro personaggio che forse dopo la Gardner è il personaggio più importante di questo carteggio che è Everett Faye perché Everett Faye comincia a lavorare c'è un po' questa tradizione di curatori che cominciano al MET molto giovani e rimangono in gran parte per il resto della loro vita lì la Gardner stessa Catherine Bacher Keith Christensen e Everett stesso però Everett ha un salto diciamo perciò lui passa da curatore del MET del Dipartimento di Pittura a direttore della Frick per più di dieci anni negli anni settanta di base per poi ritornare al MET come capo Dipartimento di Pittura Europea e io ho conosciuto Everett ovviamente come capo Dipartimento del Dipartimento anche se poi sono entrato nel Dipartimento quando Keith l'ha sostituito per prendere il suo posto nel 2010 mi pare quindi quello che succede ovviamente in questo periodo di tempo degli anni diciamo settanta è il carteggio in cui si riferisce anche al catalogo del MET perché ovviamente Everett è una delle persone che ha lavorato su quello prima di andare alla Frick e su cui poi tornerà ritornando e il carteggio non è soltanto un carteggio sul catalogo ovviamente o su cose della Frick ma è un carteggio incredibile perché si parla di tutta una serie di artisti e tra Everett e Zeri c'è veramente un diciamo uno scambio fra titani dell'attribuzione della filologia molto più che con la Gardner perché la Gardner alla fine è Zeri che le dà informazioni sulle nuove attribuzioni su scoperte e cose del genere come dicevo prima la Gardner è di base interessata alle collezioni e al collezionismo mentre invece Everett Faye è veramente nel profondo di questioni storico-artistiche anche molto precise c'è una lettera dell'81 quindi verso la fine del carteggio quando Everett è quasi per tornare al MET che è molto bella perché e qui vi faccio vedere un quadro di Derek Hill un pittore americano che fa vedere Everett nell'ufficio del direttore della Frick un ufficio che dagli anni 30 a oggi non è mai cambiato e purtroppo adesso è cambiato perché per una serie di motivi con i restauri della Frick abbiamo riportato una sala originale che era lì per cominciare prima dell'ufficio negli anni 30 di nuovo in quello spazio quindi è uno spazio che non esiste più così come lo avete nel quadro ma è un quadro che mi fa molta tenerezza perché ovviamente il quadro nello sfondo è un wastel e la lampada era la lampada che avevo io in ufficio quando ero in un ufficio diverso e alcune delle sculture degli oggetti sono ovviamente alla Frick e molto ben riconoscibili ma questa lettera dà un'idea di come spaziano gli interessi di questi due personaggi Zeri scrive a Fay nel maggio dell'81 e di nuovo il senso del humor queste sono le uniche sculture greche salvate da Cristo e dalla Madonna ma ovviamente si riferisce ai bronzi di Riace e l'idea di è impressionante pensare nell'81 poco dopo la scoperta come questo storico dell'arte italiano scriva a un suo collega diciamo americano dicendo non andare a vedere Lorenzo Lotto a Ancona ad Urbino piuttosto vai a vedere i bronzi di Riace le lettere sono dicevo si riferiscono in momenti al catalogo c'è una lettera del 74 in cui Zeri di nuovo scrive I entirely agree upon your judgment about the second volume of the Italian catalog del Met the volume couldn't be better and the illustrations are extremely fine and useful quindi questo è un momento in cui Zeri ovviamente è molto fiero del catalogo e Everett gli ha scritto una serie di lettere per complimentarsi dell'uscita del secondo volume nel 75 Zeri invece sempre riscrive a Everett sui cataloghi della Frick perché non dobbiamo scordarci che in questi stessi anni negli anni 60 Pope Hennessy Bernice Davidson Edgar Munhol sono al lavoro invece sui cataloghi Frick che vengono pubblicati più o meno fra il 68 e anche quelli degli anni 80 Zeri dice chiedendo potete però mandarmi anche quelli di scultura dei tappeti dei mobili dei disegni tutti gli altri e quindi poi ha il set diciamo completo l'altra cosa incredibile di questo carteggio ma che si vede dal carteggio col Met ed emerge ovviamente anche da quello con la Frick è come Everett e Zeri fossero interessati a tutta una serie di pittori tra virgolette sconosciuti cioè come conversassero tranquillamente di tutta una serie di maestri minori effettivamente dell'Italia centrale o anche del nord cominciando con pittori più importanti Giovanni Di Pietro Biagio D'Antonio Fra Bartolomeo tutte le monografie mai fatte cioè in questi due libri se uno comincia a contare le monografie che tutti vogliono fare ma che non vengono fatte la Garner vuole fare la monografia su Cosme Tura Everett vuole fare la monografia su Fra Bartolomeo tutte monografie che poi non escono o escono in maniera diversa Alesso D'Andrea Buonaccorso di Cino e poi tutti i vari maestri il maestro di San Davino il maestro i Tavernelle il maestro di Benabio familiare del Boccaccio cioè tutta una serie di artisti e questa è una minimalista in cui francamente leggendoli non riesce a localizzarli uno per uno o a sapere esattamente in quale chiesa sperduta dell'Abruzzo fosse un'opera minore di uno di questi artisti ma è impressionante vedere come questo emerga dal carteggio ma per tornare e per concludere per tornare al MET i cataloghi dicevo rimangono questi enormi monumenti al collezionismo del MET alla storia della storia dell'arte della curatela di questo specifico museo così come poi altri musei hanno seguito per tanti anni sono rimasti un po' la pietra di paragone per la catalogazione in America in parallelo con quello di Baltimore della Walters e quello di Baltimore ha la grande differenza di essere uno dei primissimi cataloghi ad includere schede tecniche per tecniche intendo relazioni di restauro sulla la materia stessa dell'opera quindi sulla sulla situazione diciamo fisica dell'opera d'arte della pittura una cosa che poi ovviamente è diventata normale per qualsiasi catalogo negli anni successivi però in quelli del MET ancora questo non c'è ci sono dei riferimenti a questo ma non più di tanto cominciano a comparire nel catalogo Frick e ci sono nel catalogo di Baltimore l'altro lato di questi cataloghi al giorno d'oggi secondo me il non plus ultra della catalogazione al giorno d'oggi rimangono i nuovi cataloghi della National Gallery di Londra che sono invece tutto un altro progetto in cui tecnica cornici telai informazioni sono veramente esaurienti e quello è parliamo di un altro mondo il mondo inglese piuttosto che quello americano ma è uno dei grandi successi diciamo della generazione di Nicholas Penny alla National Gallery alla Guida e precedentemente Neil McGregor e Dillian Gordon e tutta una serie di altri curatori ma scherzavamo sempre che il catalogo veneziano la scheda sulla famiglia di Dario Alessandro di Paolo Veronese è come un libro in se stesso cioè sono qualcosa come non lo so un centinaio di pagine su un quadro unico in un catalogo e quindi quelli tuttora rimangono come per quanto riguarda i cataloghi diciamo finiti uno degli sviluppi post Zeri Garner più importanti finisco ovviamente col complimentare gli autori del libro che come dicevo è un libro importante spero ce ne saranno altri relativi a queste catalogazioni non so quanto materiale abbiamo ci sia rispetto a Zeri per quanto riguarda le catalogazioni Spade e Pallavicini anche quelle sono due altre operazioni molto molto interessanti e si potrebbe ipotizzare libri su quasi ognuno di questi progetti di catalogazione sarebbe molto bello qui alla Fondazione Zeri avere altre informazioni su questi progetti e finisco col dire che nonostante io non sia più al Metropolitan siamo adesso in una fase in cui il dipartimento di nuovo è cambiato totalmente io scherzavo con dei colleghi l'altro giorno che il dipartimento in cui io ho lavorato ormai dieci anni fa per tre anni è totalmente diverso dal dipartimento di oggi cioè tutte le persone con cui ho lavorato che erano le persone che compaiono alla fine di questo carteggio la Catherine Bacher che Keith Christian se ne è tanti altri e Everett stesso non sono più lì sono tutti ormai andati in pensione e quindi c'è una nuova generazione di curatori più giovani che hanno preso queste redini e adesso letteralmente in queste settimane si sta concludendo il riallestimento totale della pittura europea del Metropolitan quindi chiunque di voi sarà a New York dopo metà novembre le stanze sono le sale tutte della pittura europea saranno disposte in maniera totalmente diversa da quella a cui siamo abituati e che conoscevamo non so quale sarà il risultato non ho visto e non so ancora nulla e sarò sorpreso come tutti gli altri quando le vedremo però è bello capire e pensare che le cose vadano avanti che comunque in un museo come il Metropolitan e come tanti altri ci siano nuove visioni nuovi modi di rapportarsi all'arte in questo caso europea e italiana e quanto ancora lo studio dei quadri italiani e non continui al Metropolitan e il vederli in maniera diversa sia parte della vita non solo dei curatori ma del pubblico esperti o non esperti con questo non so se ci sono delle domande o se Andrea e Luca volete venire anche voi se ci fossero domande per voi grazie intanto io dico grazie per come ci hai illustrato molto bene questa vicenda e che io credo comunque abbia un po' i contorni dell'unicità cioè il fatto che fossero lontani ha determinato questo carteggio e anche questa possibilità di conoscere e credo che anche con la Walters non lo sappiamo ma non ci sia cioè è qui anche l'amicizia che nasce con la Gardner poi quella già che c'era con Everett che determina questa ricchezza di materiali e che proprio vediamo si arricchiscono con le lettere che poi tu ci hai passato o che abbiamo visto solo recentemente della Frick dove effettivamente questa discussione fra i due è effettivamente impressionante e richiama davvero diciamo capiamo di essere appartenere a una generazione molto diversa cioè leggendole adesso è come leggere lettere dei grandi intellettuali del Settecento davvero questo cioè non c'erano altri modi per scambiarsi non c'era il telefono non c'era Whatsapp c'era tutto questo e ogni lettera è veramente come un pezzo di articolo la segnalazione di una visita sono davvero impressionanti e quindi no se ci sono delle domande per Xavier Salomon oppure per Luca Mattelio anche per me noi siamo felici vorrei solo dare un attimo la parola a Luca se vuoi che diciamo una cosa che non abbiamo ancora fatto di ringraziare tutti coloro che ci hanno aiutato cosa? ma fallo subito fallo subito e poi facciamo le domande così a partire naturalmente dall'Associazione Antiquari d'Italia che segue da anni questa collana e che ci ha aiutato molto perché anche in questa occasione quindi hanno supportato e hanno contribuito ecco la realizzazione di questo libro quindi li ringraziamo carlosamente e ringraziamo una speciale menzione dell'America Eugenio Maggiari Zeri appunto di Federico Zeri perché con generosità con disponibilità e precisione anche devo dire ci ha consegnato il materiale che ha attinto all'archivio di suo zio e ci ha permesso di colmare quelle lacune che come dicevamo appunto il carteggio il carteggio presenta quello delle carte americane e quindi questo ha permesso di ottenere un lavoro anche più completo e ringraziamo anche tutto il personale appunto del fronte new yorkese quindi ovviamente il personale del Metropolitan Museum perché è chiaro che è stato un appoggio particolarmente importante e ha permesso anche di limitare quelle difficoltà che ci sono dalla distanza inevitabile tra l'Italia e gli Stati Uniti in particolar modo tu Kristiansen e Catherine Batcher che quindi sono stati molto generosi e disponibili ecco nel proprio seguirci in questo lavoro Catherine Batcher tra l'altro che come ci diceva Salomon ha ricoperto anche questo ruolo di amica di Elizabeth Gardner e quindi questo ci ha concesso anche di mettere maggiormente a fuoco ecco anche questa studiosa così introversa per questa enigmatica anche sono pochissime le informazioni su di lei banalmente le fotografie pare non farci fotografare quindi questo riuscire anche a ottenere delle fotografie banalmente è stato un successo particolarmente importante e quindi insieme alla vita di Elizabeth Gardner che è Catherine Batcher anche che ha aiutato anche lei moltissimo in questo lavoro e ringraziamo il personale della Fondazione Zeri gli amici ecco ormai della Fondazione Zeri che ognuno a suo modo ci ha aiutato in questi mesi di lavoro quasi anni perché dal 21 e direi in particolare a Elisabetta Sambo perché quando si ha a che fare con Federico Zeri non si può non confrontarsi con Elisabetta Sambo e stiamo certi che qualcosa di nuovo qualche passaggio insomma lei riesce a trovarlo a Marcello Calogero perché la sua organizzazione e la sua accuratezza e generosità anche devo dire che sono stati degli ingredienti e degli elementi molto importanti soprattutto per quanto mi riguarda e quindi mi è stato accanto moltissimo e poi a Marcella Pulatti strepitosa cioè strepitosa nel suo lavoro così silenzioso ecco proprio su queste pubblicazioni e più delle volte che passa inosservato ecco dietro le quinte di queste pubblicazioni c'è sempre Marcella Pulatti che va al di là ecco del lavoro redazionale per cui è nota ufficialmente quindi direi che anche questo è molto è molto importante e mi concedete una parentesi anche biografica e personale e ringrazio Silvia perché diciamo ha seguito tutta questa pubblicazione con tanta pazienza e tanta comprensione quindi devo dire che per me mi ha facilitato moltissimo questo lavoro e poi ci tengo a ringraziare anche tutte le facce amiche ecco mi concedo questo spazio mio personale perché vedo tanti amici oggi presenti che hanno riempito la biblioteca della fondazione e devo dire che è una bella sensazione ecco quella di vedere qui presenti tutti questi questi amici ho il dubbio che siano presenti siano venuti per conoscere di persona il nostro ospite il lusso sono venuti per Mattedi per Mattedi ecco questa questa tutta mi offre l'est invece per ringraziare soprattutto Xavier Salomon perché è stata una bellissima presentazione e devo dire che anche fa un certo effetto avere uno studioso così prestigioso ecco che ha divorato in così poco tempo il nostro il nostro libro e la fondazione Zeric è abituato a a ospiti di un certo di certo calibro però forse oggi si è superata quindi grazie comunque no è affascinante ho apprezzato molto il fatto che tu abbia fatto questi confronti con le imprese di oggi di editoriali e questa e questa impresa quindi metterà proprio le difficoltà e le unicità anche e quindi un italiano scelto per l'occasione e questo è un elemento molto importante ma anche lo stesso metodo di lavoro cioè quanto è stato complicato e faticoso ecco per i due studiosi quindi sottoporre le questioni sottoporre i dubbi e aspettare appunto le necessarie tempistiche postali per avere poi le risposte mi mandi questa fotografia mi mandi questo aspetto e noi oggi lo diamo per scontato in un attimo magari la risposta può arrivare e ci si rende conto proprio che la realtà non così lontana degli anni 60 e 70 60 ecco in particolar modo era completamente completamente diverso un metodo di lavoro per noi per noi impensabile proprio e anche l'importanza dell'archiviazione di questi materiali che adesso il grande dilemma nostro di tutti è l'archiviazione cioè delle mail tutto sul cloud come si fa esatto sul cloud però nessuno andrà attraverso speriamo tutte le mail che ci arrivano ogni giorno una media non so 400 mail al giorno non so chi le riuscirà mai a leggere però ci saranno soprattutto nei files per esempio del Metropolitan io mi ricordo ci sono tante lettere ovviamente non solo di Zeri ma di tanti altri storici dell'arte con tutta una serie di materiali interessantissimo su tante altre questioni altri quadri e quando io ero al Met facevo sempre in modo che le mail importanti in cui c'era qualcosa di interessante scritto dagli altri fosse sempre stampata e messa nei file e do dire i colleghi di adesso spesso mi scrivono dicendo abbiamo trovato questa tua mail di sette anni fa di dieci anni fa e nel momento in cui io me ne sono andato al Metropolitan tutto il mio diciamo carteggio tra virgolette del Metropolitan non so dove sia quindi a parte le cose stampate questa è un po' una lezione per chiunque di voi lavorerà mai o lavora adesso in un museo di cercare di tenere anche il cartaceo perché per quanto il cloud sarà il futuro nostro della nostra vita però il cartaceo ancora in realtà c'è e funziona ha funzionato per millenni quindi no no infatti voglio dire anche un'ultima cosa io mi fa piacere che tu abbia detto che in fondo questo catalogo non è così male perché veramente c'è un po' e no è un catalogo di cui Zeri stesso appunto come tu già hai ricordato come dirlo metto a confronto con quello di Baltimora forse perché l'ha fatto divertendosi più diciamo una cosa poi il catalogo di Baltimora era pieno di cose forse anche meno importanti ma molto meno conosciute quindi lo storico dell'arte è il piacere della novità della scoperta e lì ne ha fatte tantissime questo invece è un museo molto più canonico quindi con molte opere più conosciute però come dici tu effettivamente poi non ci si è lavorato così tanto e diciamo però ci sono molte attribuzioni molte idee nuove in queste schede sempre diciamo quello che ci fa impressione stringatissime perché tu ci dicevi le schede di Nicola Spenni di 100 pagine appunto per la famiglia di Dario di Paolo Veronese e invece qui in dieci righe è una veramente un po' l'idea del quadro l'idea dell'autore cioè questa stringatezza in un momento in cui già la bibliografia si stava arricchendo in modo come dire esponenziale che i due riescono a tenere è veramente in una paginetta rapidissimo e diciamo è una stagione che si è un po' chiusa perché lì si capisce anche appunto la scelta di Zeni non era sbagliata perché in dieci righe riusciva comunque su certe cose essere come dire fulminante e a restituire davvero la specificità di certi casi però hai ragione che poi anche fermato gli studi perché ci sono tante cose e tu lo sai meglio di noi tante cose problematiche insomma ancora al Metropolitan e che non sono che non sono state sciolte però sono cataloghi che veramente sono stati guardati un po' con una certa come dire sufficienza da parte di Popenesi da parte di Zeri stesso e invece tutto sommato per tanti musei li vorresti avere dei cataloghi del genere non li hai a partire da tanti musei italiani quindi speriamo che la gente li trovate tutti online tra l'altro questi cataloghi Metropolitan li mette a disposizione gratuitamente e sono ancora strumenti che hanno un loro senso credo e poi diciamo anche due cose uno sono anche belli parliamo dei libri anche come oggetti sono molto ben disegnati ovviamente foto in bianco e nero parliamo di altri tempi ma sono e poi la seconda cosa è che sono come si dice gestascabili gestibili io mi ricordo la prima volta quando ho lavorato al Metropolitan la prima volta come stagista nel 2000 io giravo con i cataloghi di Zeri e leggevo le schede davanti ai quadri cioè quello lo puoi fare il catalogo di Nick Penny in bocca al lupo cioè come andare in palestra tutti i giorni però ha un approccio diverso che poi i cataloghi non hanno più seguito perché ormai tutti noi ci immaginiamo mattoni enormi per un catalogo io aggiungerei una cosa alle cose che hai detto sul fatto del catalogare o mettere in linea e io difendo ovviamente il catalogo anche se il giorno che è uscito è niente e devo dire ma però si può anche ripudicare perché poi vado per i luci eccetera e poi rimane sempre qualcosa nella biblioteca si può prendere si può si può utilizzarlo io difendo io sono totalmente Andrea sono d'accordo nel catalogo dei nostri quadri del 600 ci siamo fatti la domanda le mettiamo in linea e trovo che per esempio l'esempio del Mets è quello la qualità e non ha umanità non c'è una persona che scrive la scheda c'è perché sono firmate però poi bisogna capire qual è la genetica della scheda io sono abbastanza d'accordo noi adesso siamo nell'ideare i nuovi cataloghi della Frick l'idea è di rifarli più sul modello di quelli di Londra quindi molto esaustivi cioè l'idea adesso io in teoria sto lavorando al catalogo spagnolo che sono nove quadri l'idea è che sarà un mattone enorme su nove quadri quindi con una monografia su ogni quadro però anche lì con tutte le informazioni i cornici per esempio ho recentemente visto non mi ricordo dove un nuovo catalogo appena uscito non mi ricordo adesso di quale museo in cui la prima volta che ho visto un catalogo che illustrava i retri di ogni quadro che è abbastanza interessante e anche importante quindi sì quella è una novità che francamente nel passato con la facilità delle foto i cataloghi di per sé non sono libri che faranno mai soldi di nessuno dell'editore del curatore del museo però sono una parte della nostra missione di quello che facciamo nel mondo dei musei come storici dell'arte quindi secondo me l'importanza anche pratica di questi cataloghi è di averli sponsorizzati in modo che uno non perde soldi a farli quanti ne vendi non importa e renderli accessibili anche online secondo me il volume stampato può avere una vita online ma non può essere una cosa che esiste solo online io per esempio recentemente ho lavorato su delle cose di oggetti che sono passati per case d'aste negli anni 80-90 e le schede sono pubblicate stampate abbastanza brevi e poi dice per la seda più esaustiva si veda il floppy disk che l'accompagna qualcuno di voi sa come avere accesso a un floppy disk uno scrive a Christie state vi dicendo ma avete queste informazioni no sono sul floppy disk o adesso il cd che almeno ancora un po' uno ci arriva però questa è la cutting edge della tecnologia degli anni appunto 80-90 già queste robe sono inutilizzabili la carta abbiamo i papiri abbiamo la villa dei papiri ercolano quindi almeno quelli cioè fino a un certo punto sopravvivono quindi io direi solo essendo tradizionale di mio sono assolutamente d'accordo con te però è il nostro dovere pubblicare i nostri quadri assolutamente e poi rimane un monumento forse anche un po' vanesio diciamo dello storico dell'art o del team che lo fa però è una cosa che uno ci lavora per 10-20 anni un anno quello che sarà e poi viene pubblicato poi se le notizie superano quello che è stato scritto ben venga tutti noi ci sbagliamo tutti noi scriviamo cose che poi vengono riviste grazie a Dio da altre persone bene allora grazie ancora a voi di essere qui grazie a Xavier Salomon e noi avremo un'altra presentazione domani domani presenteremo il libro di Francesco Frangi su Savoldo con Simone Facchinetti e Carlo Ginzburg quindi due giorni di seguito bene grazie ancora a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti